Dal premio Nobel Giorgio Parisi a Stefano Mancuso ed ancora Gabriella Grayson e Massimo Cacciari sono loro alcuni dei protagonisti della seconda stagione di Arezzo Science Lab. Il festival che quest'anno aumenta il numero di spettacoli ma con un format invariato, un evento al mese e la formula della lezione spettacolo teatrale. Si tratta di intellettuali di grandissimo valore. Il punto fondamentale è questo che oggi non c'è più distinzione netta perlomeno tra cultura scientifica e cultura umanistica ma la cultura si dispiega a 360 gradi comprendendo sia il lato umanistico che il lato scientifico e tecnologico e questo è quanto serve sia nel mondo del lavoro sia nel nostro paese. Si parte il 10 dicembre al circolo artistico. Avremo veramente un grande ospite internazionale perché verrà ad Arezzo Carl Safina alle 17.30 presso il circolo artistico. Safina è uno dei più importanti biologi marini a livello internazionale, pluripremiato in tutto il mondo. Si occupa di tutela degli oceani, di tutela dell'ambiente e tema quello appunto del cambiamento climatico, del dover essere più green della nostra società, di stringente attualità come purtroppo abbiamo anche recentemente visto per cui un'apertura che abbiamo fortemente voluto portando ad Arezzo appunto un grande ospite a livello internazionale. Poi avremo un calendario ricchissimo perché parleremo di neurobiologia, di fisica, di astrofisica, di medicina e verranno a trovarci Giorgio Vallortigara, Massimo Cacciari, Aldo Cazzullo, Michele Punturo, Andrea Rinaldo, Paolo Ferri e Silvia Bencibelli.